Salve gente simpatica, perdonatemi ma sono sconvolto e ho appena aperto la pagina ed è sparita la serie E' sparita tutta la serie di quel gioco, della combo di Aror negli universi Che succede? Hanno ritirato il progetto? Io non capisco Varevo davvero giocarlo per curiosità oggi ma non c'è più Vediamo se ritrovo l'autore, com'era Era... ha partecipato anche al... più veloce ci passo così forse Qui... 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 ehi, dovrei cercare il suo gioco che era... era live, qualcosa su live Non ricordo, perchè magari cercando per autore appare ancora nel suo profilo Ma l'avrei tirato dal contest Avrei venuto a cominciare con uno di quelli e poi farli man mano che giocavo Era que... no, ok Da un po' che non il passo qui, eh Cercavo il live... il live a live, qualcosa di simile Ho una grafica molto... non è che ha ritirato anche quello Mi ha commentato però... sto progetto Qui lo trovo sicuro Se non ha cancellato l'account Ecco qui, Barry B dovrebbe essere Non sembra ce l'abbia più Trovo qualche parte... no, li ha proprio rimossi Oh, questo è... imprevisto Abbiamo altri giochi, però... insomma... mi pare... perché mai rimuovere dei giochi? Cioè, capisco che il profil... sul profilo appaiono e quindi anche io ne ho fatto un po' di pulizia col profilo Appunto, infatti, vi... devo che recentemente... ho... in genere ricevevo... vai download sul gioco di Anagram Quello l'ho tradotto male Dover prima o poi fare un giro di ritraduzione Infatti il profilo... non so dov'è... qui Ho messo qui nascosto Tra virgolette nascosto Due giochi un po' vecchi che... diciamo non... non voglio che le persone lo scarichino prima degli altri Ecco, quindi li ho nascosti un po' qui Volendo si può anche togliere direttamente dal profilo Cos'è che volevo fare con un... Che ho già fatto con un gioco Il gioco che ho fatto di Sky... 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 Dai non appare su... sul profilo C'è anche la mod di Hyperdam Ah, vecchi tempi Ok, e sto divagando un pochino, forse Fatto sta, non abbiamo più quell'essere di giochi Di... come si chiama... Del... ho già dimenticato... Haroldverse, forse qualcosa del genere Sì, è un gioco che ho fatto per... un progetto universitario Non è servito a niente L'ho riciclato come primo aprile ma... L'ho nascosto dal profilo perché... non lo so, non fa una buona impressione Allora... Oggi mancanza di quello, proveremo gli altri che... Non sono troppi ma... Comunque... Non so quanti interessanti rimangono Allora... Amazing Adventure... Questo sembra... I labirinti nel RPG Maker... Dalle screenshot sembra anche autogenerato Quindi... Eh... Sarà divertente Ah, è su web Il fatto non ha screenshot Altrimenti Se avete suggerimenti Dunno, Ramage C'era anche... Sembrava curato ma... Il gameplay sembrava normale Quindi non mi intrigava troppo Rage Against the Dying? Forse ma... L'ho dallo stesso che ho fatto quel gioco, no? Dov'era? No? Mi confondo Lo stile grafico purtroppo È un po' tanto riusato recentemente Pigger? Oh... Non saprei in verità quale... Quelli che volevo provare Un pochino li ho fatti Questo è vagamente in 3D Harold in a Generator Dungeon Potrei provare anche questo Questo? Mmm... Non saprei quale prendere Avete suggerimenti? Quello che volevo fare... Vabbè, facciamo il laberinto intanto Questo... Ebbè... Diciamo... Non saprei... Cosa aspettarmi Se non cose strane Oh... E ciao lui Benvenuto Ma salva E qualche suggerimento Per i giochi della Roll Jam Perché quelli che volevo fare Sono spariti Hanno rimosso tutti quelli che volevo fare Ok Quelli della serie Sono uno sviluppatore Ma... Li ha tolti tutti Quindi... Sono rimasto a... A bocca vuota A stomaco vuoto No, ho accenato Quindi devo improvvisare un po' Quale combinare Questo magari sembra un po' curato Potremmo passare Gli altri Non ce n'è uno che attira particolarmente attenzione Che non ho già fatto Dai Intanto ecco qui Abbiamo scaricato Harold Maze Mette direttamente qui Naro Jam Ok E questo pare Non promettente Ma è questo il bello Ok Si comincia Occhio al volume Mi esploda sempre nelle orecchie RPG Maker Ok, ok Siamo a posto Allora Questo andrà bene Vediamo se Riesco anche a farlo vedere Non mi appare Ah Perché è nascosto Ok No, è quello sbagliato E quest'altro Niente Orecchie esplose Meno male Lo fanno Un gioco su due RPG Maker Questo qui Ok Deve essere un po' più alto Perfetto Non c'è l'opzione per Uscire e continuare Sarà il micro Gray Microgame Oppure è così malvagio Che non ti fa salvare No dai E di base però Non c'è la cosa per uscire La mettevi su stella Non lo faceva Lo facevano RPG Maker Vix Ace Sì perché Vix Ace Non ha le opzioni Quindi Avere Nuovo gioco e continuo È un po' bruttino Quindi hanno messo Esci Il tasto S che non va Per uscire delle opzioni Maze La vedo male E guarda un po' te Dove sono andati tutti Marcia Terese Lucius Dove sono? Sembra che sono bloccato In questo Dungeon generico Grazie per ricordarci Il gioco Che non è pensata bene Tutti quanti si aspettano Che io sia un eroe coraggioso Per salvare la giornata Ma posso solo fare spark Anche heal no? Cosa devo fare? Grazie per le istruzioni Ah l'audio anche Mi pare adeguato Passo un pelino Ok X Ah faccio spark Apri il mana Ok Anche se Oh Questo è interessante In verità Che Il muro qui Ci passi dietro Quello che non è interessante Per tutto il resto Il dungeon Ah ok Bello Il mana si rigenera nel tempo Se no Eschi di bloccarti Harold Labyrinth Generated Generated Harold Labyrinth Marcia T'ho trovata Che c'è Harold? Sono un trappolato Qui in questo posto Ci sono mostri ovunque Non arrenderti Harold Ricordo la magia di fuoco Che ti ha insegnato Che le fiamme di coraggio Brucino i nemici Ma lei Che ci fa qui? Grazie Marcia Ah ok ok Sono ricordi del passato Ok Ha già un po' di senso Ma non è che cambi Oh Quindi Ok questo Fa più male Ho ne spammo di più Ma costa più mana Si Se Se magari Beh Il nemico non schivase E immagino che l'albero è vulnerabile Al fuoco Almeno non sparisce Instant Almeno quello Il minimo di attenzione Ci ha messo Senti Lo spam Vai Yes È una cosa un po' brutta In verità Aspettare che ti carichi il mana Però Vengono le vibes Del deserto Di Ah Di teia Un po' alla volta Il fatto è Non è incentivo Di combattere Posso schivare Così Non serve combattere Non da esperienza No Cosa hai fatto Harold Terese Io mostri Sono troppo forti per me Hai dimenticato la Pratica L'abilità di spada Perforante Che ti ho insegnato Mostragli il capo Imparato Piercing slash Si fa Così E come si fa Ok Va oltre i nemici Ci sta E per questo Ah Viene shottato da quello Ah Eh Ah Tratta i muri come nemici E quindi Beccano danno Può essere Chissà se Si possono uccidere E infine Lucius Ciao Lollo Benvenuto Marmellata di Harold Purtroppo hanno cancellato Dico ogni volta Arriva qualcuno Hanno cancellato I giochi Dell'Haroldverse Quindi Non li posso più recuperare E ci abbiamo anche te Benvenuto Sempre un momento Per parlare Ma D'eserto di teia Cavolo Speravo non ci fossi Scusami Lollo Hai già avuto La tua redenzione Con Invalidate E anche di me sto Questo gioco Gioco è una È un camminare Parlare Spammare tasti Spammare Premerli un po' La volta Non riesco a trovare Non riesco a trovare L'uscita Non so che fare È il momento Di riguardare In te stesso Un vero eroe Brilla Dal cuore Usa questa luce Per guidarti in avanti Oh Oh E questa magia sacra E con questa vinco No Devo solo schivare Ui Ah Uccide i muri E questo è verità Un dettaglio Non lo so Interessante Ah ok Mure esterni no Cioè Inutile Però Ui Si blocca con quelli Ma Non lo colpisce L'avvicinato Cioè Quell'aterale non colpisce Non lo so L'hitbox strano Ui I muri non ci sono più Ah È morto il pistello però La boss fight finale Emozionante Ah Triplo Cioè Come la shotgun Triplo in faccia Ah No Non me Carica di più Emozionante Sono Truly Emozionato Da questa boss fight Avanti indietro Spam Oh È morto E adesso E adesso Che devo fare adesso Se blocca Aiuto Che c'è qui Qualcosa Inizio Non lo so Non c'è niente Ah Dove uccidere Ogni nemico E però Che scatole Almeno le scorciatoie Dai Ci sta parlando Bisogna ricordare Io Del passato Sì ma C'è modo E moto C'è frequenza E frequenza Ecco Mi sa che Dove c'è di tutti Non ho altre idee Spark Fire Spam No Come no In realtà a destra Non Non mi sembra C'era ma Riguardo Non c'è niente Non c'è niente Ah Eh Prego Prego Ok Questo era vagamente carino C'era ma Forse Mappato un po' meglio Sembravano un po' scale Per terra Ok Ho provato a rompere sotto Muro esterno Ma non mi ha funzionato E lì Mi è distruttoso un po' Dal provare Ma forse sotto è differente Devi andare su Potrei essere Debole da solo Ma non sono Solo Marsha Terese Lucius Anche se non siete qui So che ti faccio sempre per me E assieme che possiamo Possiamo diventare Veri eroi Di questa terra Fine Musica di gioco È un nostro trasportatore È vero Se stava fermo Non mi avrebbe Dato domande In verità Complimenti 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 Oh no Non l'ho visto Ma è la scena D'Evangelion No È la gift D'Evangelion Dannazione No Dai Dai Questa me la schermi In qualche modo Questa Questa me la devo salvare Ok Congratulations 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 Vai anche Priscilla Congratulation E random man Che è quello Congratulation C'è anche Raid Grazie a tutti quanti Priscilla Raid Sono certo Anche voi Diventerete Eroi Amati Un giorno Ho grandi speranze Ho andato senza di me Ma come La butta così la frase Dai È tempo d'andare Oh ma ci sono i vecchi Però dai Questo è un dettaglio caruccio Stono un po' Però Bene vederti Harold Ero bravo abbastanza Come eroe No Eri migliore No Eri migliore Vabbè È tutto meme Qui Si può capire Cosa dicono Facilmente prevedibile Your next line Will beat Wow Che emozione Due meme In una sola scena Scena di soli meme Praticamente No To you the best Eh infatti Era prevedibilissimo Pente da 4 minuti Niente male Eh si dai Per essere breve Era caruccio Un po' di C'era un po' troppo spam Di Abilitare inizio Però È ok Quanti meme Sto gioco Alex ricordi E dai C'è avviato fuori Un po' di memoria È meme material In qualche modo